Oggi vi faccio vedere l'album fuori classico che potete prendere con 3,49 euro solo al tigre e all'oasi con carta unica Si può trovare nei supermercati oasi tigre e tigre amico e con 20 euro di spesa e multipli potete ricevere le figurine da attaccare su quest'album Io ne ho già attaccate un paio e ve le faccio vedere Qui c'è la ciclista nelle varie dei vari bondi diciamo delle varie squadre Qua ho attaccato una figurina fuori classe ho attaccato la scritta love qui c'è il venuto Infatti qui c'è scritto che posso trovare le figurine di questo album esclusivamente nei supermercati oasi tigre e tigre amico Oggi 20 euro di spesa e multipli Guardate io qua ho già attaccato Di Maria, Lorenzo Pellegrini e Seaymon Qua non ho niente Anzi qui ci manca Junior, Vincius Junior ci manca Poi qua ho Richarlison Qua ho Kim Poi ho Sane E Bonucci Leon del Bonucci è raro Antonio Rugger Rudiger anzi Braovic Eccolo qua Il giocatore più bello Comunque anche lui è raro Poi c'è Martínez C'è Il Kaj Kostik Ernestri Con il giocatore parrocchino Poi c'è Andresen Qua c'è il Dream Team da comporre E il gioco Game On Per oggi abbiamo finito Ci sentiamo per un altro giorno Ciao